Abbattiamo l'Ecomostro, un'opera abusiva nella Villa Giorovale, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. È la seconda opera abusiva che noi andiamo ad abbattere ed è importante perché l'ambiente non va deturpato ma va tutelato. Le opere abusive devono essere eliminate e deve essere valorizzato quello che è questo luogo. Un luogo mozzafiato con luoghi suggestivi che vanno valorizzati ed è per questo che noi oggi siamo qui proprio per distruggere ciò che l'uomo in maniera abusiva aveva creato.